Ogni anno, mani attente e occhi segnati da un senso di profonda fede e amore per la tradizione, ergono bellezza tale da ammirare con silenziosa preghiera. L'artigiano bitontino Franco Vacca e l'ingegner Vito Antonio Vacca scrivono un'altra pagina di storia locale, con la realizzazione di un nuovo trofeo floreale, che sta per sfilare nella solenne processione del Venerdì Santo, curata dall'arci confraternita di Santa Maria del Suffragio. Al suo interno una croce in argento dell'Ottocento, custodisce due frammenti della Croce di Cristo. Si ispira al fonte battesimale della scuola di Bernardo Rossillino, situato nella cripta del Duomo di Pienza. Rispetto ai trofei realizzati negli ultimi sei anni dei Vacca, la macchina processionale presenta alcune novità. E quest'anno, proprio perché voglio ricordare i vecchi artigiani, e pure per accontentare i bitontini, perché qualcuno da vicino, che sta più da vicino, che mi conosce, Franco, perché non ritorniamo a quelli antichi, che erano così belli, di fiori? E allora li ho voluti accontentare. E come i trofei tradizionali sono interamente coperti da fiori, così lo è quello che i bitontini ammireranno quest'anno. Si conosce anche il numero esatto di fiori, bianchi e rossi, resi per omaggio religioso da alcuni fiorai del territorio. 11.000 fiori abbiamo ordinati e non sono bastati. La struttura è alta all'incirca 4 metri ed è progettata in modo tale che sia facilitato il passaggio sotto alcuni archi del centro storico bitontino e l'entrata nella chiesa del Purgatorio. Questo qua doveva essere 20 centimetri ancora più alto, però siccome da sotto a qualche arco non passa e allora stiamo sempre sui 4 metri, 4 metri e 10. Si ricorda che sulle ultime macchine processionali, per ovviare ai problemi legati all'altezza, è stata realizzata una croce estraibile. Quest'anno gli occhi attenti dei bitontini saranno stupiti da un nuovo particolare. Questa volta, a differenza degli altri anni, l'ingegnere ha voluto mettere un'altra cosa al posto della croce che è sempre una cosa bella. Sono stati mesi impegnativi per l'artigiano nel dar vita al trofeo che ha trovato la sua casa nei giorni scorsi all'interno della chiesa di San Francesco la Scarpa, ma quel che lo porta a lavorare con passione dal 2017 è più forte. Fui chiamato e non potevo dire di no al legno santo e da allora sono rimasto dal 2017 fino al 2023. Lo faccio esclusivamente per devozione, lo dedico agli anziani e ai malati.